Le informazioni presenti in questo video sono di carattere generico e sono fornite a scopo educativo e di intrattenimento per club e società sportive con assistenti qualificati a garantire i canoni di sicurezza. Nessuna informazione presente deve essere considerata come consiglio medico come soluzione ad un problema di salute. I addetti alla conduzione dei protocolli saranno a vostra disposizione per eventuali domande in merito. Academy Fitness, I Am The Raw System, in virtù di questo e quanto sopra descritto, non è responsabile per danni, infortuni, danni fisici o altri danni alla tua persona. Proseguendo la visione di questo video, sollevi l'Academy Fitness I Am The Raw System da ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo e accetti di utilizzare le informazioni presenti a tuo rischio. Bene ragazzi ci siamo, cari istruttori siamo arrivati al protocollo 73. Just Pump con tecnica I Am The Raw System Iniziamo con un'introduzione di 4.8 e dopo di che sulla strofa si parte con un Day The Lift 3.1 ripetuto per 4 volte. Ragazzi pronti al via, iniziamo sollevando il bilanciere, mani a ampiezza spalle, correggiamo bene l'appoggio dei piedi e si parte, Day The Lift 3.1 Ancora due volte. Abbiamo un ponte da 4 e si va sul rematore singolo. Occhio, via! Ancora sette volte. Al prossimo cambia Day The Lift 3.1 lento da 4. Via! Sotto le ginocchia e sali lento. Cambia 2.2 Sempre Day The Lift. Ripeti 4 volte totale. Al prossimo cambia Day The Lift 3.1 Attenzione, un ponte da 4 e tirata al petto. Le abbiamo singole, sette e mezzo. Ancora tre volte. Al prossimo rimango su, spinta in alto. Ne hai 8. Via! Attenzione, stai pronto. Uno lento da 4. Go! Sempre spinta in alto. Vai dietro. E squat 2.2 Via! Attenzione, rallenta la discesa. 3-1 Ancora tre volte. Ancora due. Attenzione, hai un 4 e vai agli affondi. 7 per gamba. E... 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 Ancora tre volte. Cambio gamba. Stessa cosa. Ok, sta pronto. Squat. Singolo. Ancora 4 e abbiamo una transizione. E andiamo su un clean and press. Vai! Guarda! Ancora un clean and press 2-2. Sali lento. Spingi in alto lento. Spingi in alto lento. E... Combinazione. Più remata. Ancora tre volte. Chiudiamo il lavoro. Attenzione al countdown dietro. Ancora due volte. Benissimo. Ok, come sempre applichiamo una quarantina di secondi per lavorare sui nostri clabber in virtù dell'esercizio che segue. Andremo sulle gambe, sugli squat e quindi attenzione al carico sopra le spalle per coloro che hanno patologie alla schiena, nonché alle ginocchia. Massima sensibilità da parte dei trainer. Ragazzi, pronti per iniziare la sessione di squat? Ci siamo. Attenzione, 2-8. Dopodiché si parte con squat 2-2 nella strofa. Subito. Ancora. Quattro totali. Ce n'è un altro. E cambia. Tre a scendere, uno a salire. Via! Uno, due, tre. E sali. Uno, due, tre. E sali. Al prossimo cambio, inverto. Uno, tre. Via! Uno, salire. Attenzione al prossimo. Siamo sui squat. Singolo, singolo. Via! Sedici totali. Sedici totali. Altri otto. Ultimi quattro. Attenzione. Si cambia. Due, due. Ancora tre volte. Occhio. Tre a scendere, uno a salire. Via! Occhio. Attenzione alla musica. Singolo, singolo. Altri otto. Altri otto. Occhio. Pronti al cambio. Squat. Due, due. Sempre quattro totali. Ancora due volte. Al prossimo. Cambia. Tre a scendere, uno a salire. Go! Ancora due volte. L'ultimo e si torna sui singoli singoli. Ne hai sedici. Via! Occhio al cambio. Uno da quattro. Sali lento. E torna su. Tre, uno. Via! Uno, due, tre. Uno, due, tre. E ancora. L'ultimo e si va sui singoli. Via! Sedici totali. Occhio, chiudiamo con doppio bolleggio quattro volte. Vai! Il primo. Sempre attenzione al tempo in alto. Rimangono due e poco più di dieci secondi. L'ultimo. E chiudiamo con un otto per scaricare. Bravissimi. Bene ragazzi. Raccomandiamo a tutti lo stretching per i nostri clever. Sensibilizziamo bene gli allunghi e tutto ciò che serve per prepararci per la sessione che segue. Come sappiamo andiamo ai pettorali. Grazie. 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 Ok, attenzione al tempo in alto. Un secondo e ci siamo. Iniziamo con un otto e subito press 2 2. occhia la musica ripeto un 8 e si parte con press 22 ascolta bene il suono ancora due volte cambio 3 a scendere 1 a salire al prossimo ritornello 16 singoli via altri 8 attenzione pronti al cambio abbiamo uno lento da 4 e si ricomincia da capo si riparte da due due quattro volte cambia 3 1 quattro volte e si ritorna sui singoli ritornello abbiamo in totale 16 pronti a ripetere ancora una serie al mio via uno lento da 4 eccolo vai e di nuovo terza serie 2 2 cambia 3 1 attenzione pronti al cambio pronti ad entrare sui singoli ascoltate bene la musica sempre sul ritornello via altri 8 a seguire abbiamo sei blocchi da otto per recuperare ci siamo attenzione alla musica ascoltate i vostri muscoli fate far stretching ai vostri allievi bene ci prepariamo e partiamo con 13 ancora due volte e chiudiamo anche i pettorali con i singoli ne abbiamo 16 apprezzato la musica e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A seguire rematore singolo e clean and press più remata. Fate bene attenzione all'ultimo clean and press. Via, deadlift, 2-2. Al prossimo, cambia, rematore singolo. Al prossimo, clean and press più remata. Ascoltate bene quello che dico. Via! Rema singolo. Rema singolo. Ce n'è un'altra e fate attenzione all'ultimo. Attenzione, al prossimo voglio tre remate. Adesso vai. E uno, due. E si torna, deadlift, 2-2. Vai, da capo. Cambia, rematore singolo. Attenzione, questa volta clean and press più remata, classico, con una remata. Via, fino all'ultima. Ne abbiamo quattro totali. Bene, così, l'ultima e fase di recupero. Ho già il bilanciere e 4-8 di recupero, strofa. Andiamo subito al bilanciere. Si parte con il rematore singolo. Via! Ancora tre volte. Ragazzi, clean and press più remata. Attenzione all'ultimo. Attenzione all'ultimo, che abbiamo tre remate. Ancora uno con una remata. Occhio al prossimo. Clean and press più remata tripla. Vai! Uno, due. E di nuovo da capo, deadlift, 2-2. Via! Rematore singolo. Ok, clean and press più remata. Via! Rema! Attenzione, chiudiamo con clean and, clean and press. Vai! Pam, pam! Molto bene! Ok ragazzi, chiudiamo anche i dorsali con questa novità che vi abbiamo presentato, che è clean and press più remata e in due fasi, nell'ultima, nella quarta, abbiamo rematore triplo. Ricordate, nell'ultima rematore triplo, ripetuta sui due momenti, studiate bene la vostra dispensa. Prepariamoci per i tricipiti. Come and get me and do it to me, baby, baby. Come and get me and do it to me, baby, baby. Come and get me and do it to me, baby, 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 baby. bene 2.8 l'introduzione e si va su combinazione press più extension siamo in piedi con un peso siamo in piedi o seduti 2-2 via press più extension ancora due volte attenzione 1 lento da 4 via ok al termine ne abbiamo 7 singoli via al termine ce ne andiamo giù su panca e andiamo su press 2-2 occhio press 2-2 1-8 via rimaniamo sempre su 2-2 e passiamo ad extension ancora due volte torniamo in press e eseguiamo lento 4 ripetito attenzione rimaniamo press singolo singolo via estensione singolo singolo un ponte da 8 e si va in combinazione press più extension 2-2 via alla fronte alla fronte all'addome 2-2 ne abbiamo ancora 2 attenzione stesso movimento lento 4-4 ne abbiamo 1 via alla fronte e sempre combinazione singolo singolo ne abbiamo 8 addome fronte attenzione attenzione al prossimo veloci ad andare i piegamenti chiudiamo con 12 piegamenti vai via e con i 12 piegamenti chiudiamo anche questa fase raccomandiamo a tutti in questa fase sui tricipiti regolatevi con i vostri rallievi facendo poggiare le ginocchia a terra al necessità attenzione 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 via cambia 3-1 ancora 3 volte l'ultimo e via con il ritornello singolo singolo altri 8 ultimi 4 e si riparte da capo per la seconda serie 2-2 vai insieme 3 a salire 1 a scendere cambia l'ultimo e vai con i singoli altri 8 attenzione al cambio siamo sulla strofa 2-2 bene mettiamo giù il bilanciere abbiamo 4-8 e un 4 di pausa di recupero primi 8 secondi terzi andiamo a prendere il bilanciere singolo singolo stai pronto 1-2 via 3-2 e un 4 altri 4 cambia 2-2 ancora 3 volte ultimi 2 ci siamo ci siamo 3 a salire 1 a scendere vai 1-2 2-3 e jump al prossimo chiudiamo con 16 singoli go 1-2 2-3 1-3 1-3 1-3 1-3 ok 15 secondi al via attenzione 4.8 di introduzione si parte con affondi 2 2 ci siamo ok si parte via cambia 3 a scendere 1 a salire ne abbiamo in totale 8 ancora 4 volte cambia cambia 2 2 il primo secondo terzo ce n'è un altro ce n'è un altro cambia singolo singolo 14 totali attenzione doppio molleggio 8 volte il primo secondo terzo quarto quinto sesto e cambio gamba abbiamo un lungo periodo 4 8 di recupero attenzione si parte da 2 2 via cambia 3 1 3 1 ancora 4 volte ancora 4 volte ancora 2 volte attenzione 2 2 ricordate qui in totale ne abbiamo 5 stiamo eseguendo il quarto ce n'è un altro e chiudo e chiudo con singolo singolo 14 in totale fate attenzione doppio molleggio 8 volte ancora 4 volte veloce veloce a posare i bilancieri ce ne andiamo sullo step per le spinte del bacino i primi 4 saranno con esecuzione 3 1 e chiuderemo con 16 singoli vai 1 2 3 e giù chiudiamo con i singoli 16 e chiuderemo 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 ok ragazzi teniamoci pronti siamo pronti per le spalle come sempre partiamo da terra due otto di introduzione e quattordici extra rotazioni per braccio ancora sei volte prima di cambiare braccio cambio braccio dall'altro lato di nuovo quattordici via altri sei ok pronti ad alzarvi combinazione tirata al petto più alzate frontali due due partiamo con tirate al petto portalo davanti frontale ancora al petto frontale altre due volte attenzione attenzione a seguire tirata al petto singolo singolo sette e mezzo via tieni su il bilanciere spinta in alto singolo sette totali l'ultimo l'ultimo utilizziamo per scendere e tirata al petto due due vai al prossimo sempre al petto clean clean siamo sul deltoide posteriore tirate allo sterno 16 totali cambia attenzione andiamo ai manubri alzate laterali 4-8 di tempo ce ne abbiamo partiamo da alzate laterali 2-2 via ancora due volte al prossimo laterale singolo singolo fino alla fine alzate laterali alzate laterali alzate laterali bene siamo arrivati agli addominali 5 secondi al via abbiamo 3 blocchi da 4-8 in isometria plank quindi mettetevi comodi e pronti al via 2-8 di introduzione andiamo vai attenzione state pronti per crunch singolo 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 ne abbiamo 8 totali 3-8 di tempo in isometria ok seguiamolo 1-2 a seguire 2-8 di tempo in isometria occhio al cambio andiamo su crunch con 3 molleggi ne abbiamo 4 ancora due volte ancora due volte attenzione 1-8 e andiamo in isometria via via anche qui abbiamo 2 blocchi da 4-8 e 2-8 tutti in isometria attenzione pronti a seguirlo che abbiamo 16 crunch singolo andiamo andiamo criss cross singolo 16 1-2 3 4 5 6 altri 8 attenzione al prossimo è criss cross 3-1 1-2 3 1-2 3 1-2 3 1-2 3 ancora 8 totali crunch 2-2 ok 3 molleggi 2-3 1-2 3 1-2 3 1-2 3 ancora due volte pronti ad entrare nei sit up via 1-2 ne abbiamo 16 1-2 altri 8 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 4 fino alla fine ragazzi e anche questo è andato ricordiamo a tutti che just pump da oggi oltre ad essere un protocollo e un sistema musicale può essere anche un supporto video quindi chiedete ai tecnici della I'm the Road informazioni nel momento in cui volete supportarvi di un tutorial che vi aiuti nel vostro lavoro ragazzi a presto ci vediamo al prossimo aggiornamento a presto 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 Grazie a tutti